Buongiorno a tutti! Guardate dove sono? Sono a Pisa, davanti alla torre pendente. Guardate quanto pende, ma non cade mai! E oggi qui da Pisa vorrei insegnarvi un po' di gesti, gesticolare un po' con le mani. Vediamo un po', allora, i gesti italiani, puntata 1. Prima di tutto abbiamo il gesto mangiare, così, mangiare. Metto la mano così, la mano a borsa, si dice, e poi la porto alla bocca, così, mangiare. Una volta la pasta si mangiava con le mani, in questo modo, la pasta. Adesso si mangia con la forchetta, arrotolandola. Però questo gesto è rimasto. Mangiare qualcosa con le mani. E si usa in questo modo. Possiamo dire, mangiamo qualcosa? Oppure vuoi mangiare? In questo modo, in modo naturale. Adesso vediamo il secondo gesto, gesto numero due, che è bere. Con le mani formiamo una bottiglia, così. E poi beviamo. Bere. In Giappone si fa questo gesto per bere e questo per mangiare. Però sono molto diversi. Sono abitudini culturali diverse. In Italia si beve direttamente dalla bottiglia. Quando diciamo ho sete, oppure andiamo a bere, così, oppure, non so, vuoi bere qualcosa? Si può usare questo gesto, la bottiglia. Bere. Numero tre. Numero tre è un gesto molto conosciuto in Giappone. Buono. 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 Così. Però questo in realtà è un gesto usato soprattutto dai bambini. Dai bambini piccoli. Per dire buono. Gli adulti usano un altro gesto che è questo. Quando beviamo un bicchiere di vino, diciamo, fantastico. Oppure, non so, quando mangiamo una buona bistecca, buonissimo. Poi, l'ultimo gesto di oggi è che fame. Che fame. Così. E si mette la mano di taglio sullo stomaco. È un gesto che si fa quando si ha fame e si vuole mangiare. Che fame. Mangiamo qualcosa? Ok? Per oggi è tutto, ragazzi. Ci vediamo. Ciao.